Ciao agenti immobiliari, siete rientrati dalle ferie, tu sei rientrato Andrea? Io sono rientrato, non vedi quanto sono abbronzato? Ok, ma tu sei sempre nero, sei olivastro. E qual è la cosa più importante per ogni azienda, un agente immobiliare? Fatturare. Bravissimo. A lei ci ho fatto. E qual è il problema che ci viene incontro dal 1 gennaio 2019? Non lo so. Non lo so, la fatturazione elettronica. Si semplifica la vita. Esatto. Il nostro buon vecchio governo ci dà sempre una mano. Yeah! Ma veniamo noi in aiuto perché il 13 settembre alle 9.30 ci sarà in ConfCommercio un seminario dedicato alla fatturazione elettronica. Quindi impariamo come fatturare l'anno prossimo. Esatto, come si fa e tutti i segreti. Ovviamente non è che vi insegniamo a fatturare di più. Quello è cosa vostra. Sono fani vostri quelli, però dovete farlo nella maniera giusta. Vi aspettiamo a Sede di ConfCommercio via Somma Campagna. 63H. Esatto. Da 9.30 alle 12.00, è un giovedì. Venite se volete fatturare, se no fate il nero. Va anche bene così. Ciao!